Tutti gli uffici legati ai servizi sociali, compresi quelli dell'ambito, ora dislocati in varie sedi, presto albergeranno sotto un unico tetto. Saranno i locali di proprietà comunale, ubicati nel centro commerciale di Sant'Orso, che subiranno una ristrutturazione dal costo di 120.000 euro che permetterà a tutto il personale, una quarantina di persone, di operare in un unico ambiente, con locali protetti, senza barriere architettoniche e dedicati alle varie singole esigenze, ottimizzando così l'offerta dei servizi sociali. Tutto questo in tempi brevi, visto che anche questa operazione rientra nei progetti 2016 e quindi entro l'anno dovrà essere ultimata e completata. Dunque l'investimento prevede di recuperare quegli spazi del centro commerciale, di dividerli in maniera razionale e migliore attraverso opere di cartongesso, con un'impiantistica completamente nuova, per rendere appunto gradevole anche il lavoro dei nostri dipendenti. Siamo molto misti sulle date perché i lavori non sono grossissimi, anche se impegnativi, però pensiamo di poter finire a ottobre-novembre, per cui questo sicuramente è un risultato molto buono. In più abbiamo previsto, e questa è un'attività molto importante, quello di prevedere un collegamento in fibrotica tra gli uffici nuovi che andremo a ristabilire appunto presso il centro commerciale di Sant'Orso con il comune di Fan, un collegamento in fibrotica che è molto impegnativo perché la distanza è di circa 3-4 chilometri, ma che prevede il passaggio attraverso la linea della illuminazione pubblica che comunque questo comune ha a disposizione.